Caldo e fuoco nell'Europa meridionale, dove alcune case sono state bruciate dagli incendi che stanno colpendo i paesi del bacino del Mediterraneo. In Grecia il vento sta ostacolando il lavoro dei vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire su più fronti, a sud, a est e a ovest di Atene. Tre città e un campo estivo con più di 900 bambini sono stati evacuati e la polizia ha arrestato un sospetto. In Spagna l'incendio scoppiato sull'isola di La Palma si sta risolvendo, ma restano focolai attivi. Sono stati inceneriti 3.500 ettari di terreni e una ventina di edifici, mentre la maggior parte delle 4.000 persone evacuate è rientrata nella propria casa. Il caldo e il rischio di incendi ha raggiunto anche l'Italia, dove i termometri hanno superato i 40 gradi. A Catania la polizia ha aperto un'indagine sull'origine dell'incendio scoppiato domenica sera all'aeroporto, che ha ripreso una parziale attività con due voli all'ora.